Bella a tutti Forniters, benvenuti su Leontube, mi raccomando continuate a seguirci perché presto faremo una live dove regaleremo una skin Intanto in questo video andiamo a vedere come fare la missione distruggi oggetti e strutture usando gli esplosivi Va bene anche la spada Excalibur, andiamo a vedere, ora distruggiamo questa struttura qua Adesso non si distrugge, eccola qua, si sta per distruggere Vedrete che, ecco, siamo già a 2 di 25 Ok, questa adesso è indistruttibile, però Ah ok, una si è distrutta, vedete, 3 Quindi continuate così Adesso proviamo, vediamo se cadono le strutture, se ci da Sì, penso di sì, perché abbiamo già 6 strutture, quindi anche quelle che vengono distrutte Cadendo, vediamo, ora si distrugge quella là Ok, yay yay Mi stanno sparando Ok, arriva la tempesta Quindi devo scappare, lo andiamo a vedere in un'altra struttura Ok, eccoci qua, non ci sono tante strutture, più non ci proviamo Proviamo con l'albero Andiamo prima a picconare un po' Ecco, vediamo ora se è sufficiente 9, vedete, perfetto Quindi andiamo a picconare, perché ci ha dato anche Anche la pianta Ok, qui forse abbiamo fatto No, va benissimo 10 Quindi vanno bene anche gli alberi E andiamo un po' prima a picconare In modo da Vabbè, questo è stato di troppi Andiamo un po' a picconarlo In modo da Sprecare tutti i colpi E avete visto anche come è facile fare quindi Questa missione Vedete come ce li scala Vanno bene bombe, qualsiasi cosa Se non trovate gli esplosivi durante la partita Che può capitare Potete atterrare qui Dove, ecco, vedete Abbiamo trovato subito l'Escalibur E qui, dove c'è sempre un forziere dei giurati Qui abbiamo trovato anche una bomba Vediamo Adesso andiamo qua sopra Andiamo nell'altra Forziere dei giurati Che è qua sotto Vediamo se troviamo Qualcos'altro Intanto Ci facciamo un po' di scudo Anche qui Eccolo qua Il secondo lo apriamo Vediamo un po' Niente, niente di esplosivo Comunque abbiamo Le tre Le tre bombe Ora Allora qui Sappiamo ovviamente Distruggendo La casa Ci darà tutti i pezzi Ma andiamo a vedere un attimo Qui al distributore Dove Qui Vediamo se al distributore Ci conta La La missione Vediamo Allora Eccoci qui Vediamo Allora Proviamo a distruggere Una pompa Di benzina O così In questo modo E direi di sì Direi che ce l'ha contata La missione Quindi avete visto Molto Molto facile Abbiamo anche Ucciso L'avversario Venire qui Distruggere tutto E la missione È presto Completata Andiamo a vederla Eccola qua Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate Di lasciare un commento E come sempre Se vi va Vi invitiamo Ad iscrivervi Al nostro canale Non dimenticate Di cliccare la campanella Per non perdere I nostri Aggiornamenti Ciao a tutti Ciao a tutti